Oh, finalmente è arrivato il momento di guardare la serie su Percy Jackson. Ahah, ma siamo sotto Natale? Eh no, e adesso tu chi saresti? Ovvio, sono lo spirito del Natale. Ah, ma quello passato, quello presente o quello futuro? Quello che ti pare, in realtà sono qui per dirti che c'è la promo natalizia di NordVPN. Vai sul link in descrizione per avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali. Ottieni ora il piano plus e prova NordVPN più NordPass a un prezzo speciale. Provali entrambi senza rischi grazie ai 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Te lo giuro, quasi quasi preferivo il pirla vestito alla ciubecca. Sempre simpatico tu, eh? Eppure siamo quasi nel 2024, non sarebbe il caso di pensare di inserire tra i propositi per l'anno nuovo il prendere finalmente sul serio la cyber security? Ma manco a Natale mi lasciate in pace? E va bene, se non ti interessa della cyber security, pensa almeno al risparmio. Puoi eliminare i blocchi regionali da tutti i siti che vuoi, così puoi fare, che so, regali di Natale comprando da siti che non puoi usare in Italia normalmente. Ma ho già tutto quello che mi serve sui siti locali. Va bene, ma uscirai di casa. Te la farai una settimana bianca, no? Ecco, in quel caso puoi ottenere sconti prenotando su vari siti, usando NordVPN, cambiando il tuo indirizzo IP. No? Sono una sociale? Va bene, va bene. Allora facciamo che ho previsto che per questo Natale ti regaleranno solo mutande. E fidati che se lo dico io, succede. Le mutande mi piacciono. Allora... Ah sì. Allora solo Blu-ray di Natale a Miami. Cristo santo, questo no! Ma sei impazzito? Non ti facevo così stronzo? E invece... Ma su dai, animo giovane, che con NordVPN hai anche la Threat Protection, che ti protegge anche quando la VPN è spenta. Senti, io mi abbono, ma questa cosa sta diventando insostenibile. E pensa che ho anche un cugino che rompe le palle alla gente a capodanno. Ma io chiamo i Ghostbusters, cazzarola! Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e oggi voglio parlare dei primi due episodi di una certa serie su Disney Plus che sono usciti ieri e attendevo questa serie moltissima, anzi era una di quelle che mi interessavano di più per questo 2023 e ho avuto la possibilità di guardare durante i primi i primi quattro episodi, però per il momento posso parlare solo dei due che sono già usciti. Il terzo e il quarto hanno ancora l'embargo per qualche giorno. Mi riferisco naturalmente a Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo. Io ho letto tutti i libri scritti da Rick Riordan, è una saga che mi piace molto, è un po' che non li rileggo effettivamente, quindi alcune cose le avevo un po' rimosse, però guardando questi primi due episodi mi sono reso conto di quanto la serie sembri essere, almeno per ora, molto fedele al primo romanzo Il Ladro di Fulmini e come sapete avevano provato anche a portare la saga al cinema con scarso successo. Il primo film era bruttino, però ancora ancora secondo me si lasciava guardare. Non era orripilante, ma non era neanche un bel film. Il secondo era proprio una cacata pazzesca e non rendeva minimamente giustizia al romanzo. Era il mare dei mostri, se non mi sbaglio. Quindi ero molto curioso di sapere come questa serie avrebbe adattato i romanzi, anche perché dietro c'è proprio il creatore, l'autore, Rick Riordan, che si vede che ha partecipato alla stesura delle sceneggiature perché è sì fedele, però ci sono anche dei cambiamenti che sono stati voluti da lui per correggere degli errori che avrebbe sempre voluto sistemare nei libri, anche perché comunque, si sa, uno magari scrive una saga 15-20 anni prima e 15-20 anni dopo pensa cavolo, quella cosa avessi potuto, non l'avrei messo, oppure l'avrei cambiata con questo, o quell'altro, quindi non è sempre sinonimo di qualità del prodotto, il fatto che dietro ci sia anche l'autore dell'opera originale, però in alcuni casi può essere qualcosa che fa bene al prodotto e questo sembra uno di quei casi. Innanzitutto, io ho trovato questi primi due episodi molto carini, mi sono piaciuti parecchio, devo essere sincero, funziona come idea perché io penso che se qualcuno non ha mai letto i libri, probabilmente si ritrova a sorridere nel vedere come abbiano adattato gli elementi della mitologia greca alla contemporaneità. Tra l'altro, non viene espressamente detto nelle puntate, però magari uno potrebbe chiedersi sì, ma perché le creature mitologiche, gli dei, sono negli Stati Uniti d'America? Riordan questa cosa la spiegava nei romanzi e veniva detto che l'Olimpo e tutto quello che ne consegue, quindi dei, creature mitologiche, e quant'altro si spostano in base a qual è in una data epoca il cuore della civiltà. Quindi se non sbaglio veniva detto che prima non erano negli Stati Uniti d'America, prima erano in Inghilterra, poi erano in Francia, quindi nella contemporaneità diciamo che uno dei paesi con la maggiore influenza sul mondo a livello anche culturale se vogliamo sono gli Stati Uniti d'America e quindi gli dei si trovano lì. Per cui è anche una bella spiegazione, però mi sembra che questa cosa non l'abbiano proprio detta per il momento, non so se lo diranno magari nelle puntate successive, ma l'ho sempre trovato un'idea molto carina e innanzitutto io ho trovato molto in parte Walker Scobell che secondo me è un bravo attore, l'avevamo già visto in The Adam Project con Ryan Reynolds e qui è stato per ora molto bravo, il suo Percy Jackson mi convince, tra l'altro sono contento che tra lui Lea Jeffries, attore che interpreta Grover abbiano scelto degli attori ragazzini perché comunque Walker Scobell ha girato la serie che aveva circa 14 anni e qui nella serie è anche più picco doveva avere un 12-13 nei libri è un 12, qui non è che specificano bene, sta di fatto che è un ragazzino, è poco più che un bimbo e è molto meglio così che prendere attori magari più grandi che interpretano personaggi di età inferiore, è molto più credibile in questo modo, quindi ho apprezzato e ho apprezzato come hanno approfondito Percy, ho apprezzato come stanno cercando di approfondire Grover che a me è un personaggio che già nei libri piaceva ma vi dirò con questo suo fare un po' timido, insicuro, mi piace ancora di più qui, l'attore è bravissimo, sono stati tutti bravi in realtà e poi Annabeth che in tanti stavano criticando per il solito motivo nei libri è con la pelle bianca bionda e gli occhi grigi e doveva lottare per non essere considerata il solito stereotipo della ragazza bionda stupida perché l'hanno fatta nera? A quanto pare è stato lo stesso Rick Riordan a scegliere l'attrice perché secondo lui era perfetta come Annabeth e quindi se è perfetta per l'autore non ho capito quale deve essere il problema e secondo me è un personaggio interessante che viene introdotto soprattutto nel secondo episodio perché nel primo non la vediamo e è vero che rispetto ai romanzi ha un atteggiamento un po' troppo stronzino secondo me va benissimo così è perfetta e il suo rapporto con Luke che è un altro personaggio che a me piace molto e che qui secondo me stanno approfondendo molto bene è nettamente più interessante lo stanno rendendo un pochino più come posso dire un po' più profondo c'è un legame maggiore mi piace mi piace sinceramente e e poi ho apprezzato anche tutto il resto cioè sì ci sono dei problemini perché ad esempio io ho trovato che ci sia una rapidità veramente eccessiva in alcuni momenti è tutto velocissimo capisco che il materiale è tanto e che devono farlo tutto in una sola stagione per l'amor del cielo però ricordo che il primo libro non fosse così grosso quindi volendo si poteva andare leggermente meno spediti e soprattutto il problema più grande è che le varie scene sembrano quasi delle clip fatte molto bene montate una dietro l'altra addirittura dopo ogni scena c'è uno stacco al nero di circa 2-3 secondi che può essere per il fatto che Disney ha venduto la licenza di alcune serie originali ad alcuni network televisivi quindi magari quelli sono gli spazi che verranno utilizzati per la pubblicità però a quel punto mi viene da pensare sì ma i network possono prendere la puntata e farlo ritagli senza che le devono mettere su Disney Plus non è che c'è la pubblicità è lo spazio il classico fondo al nero che di solito nelle varie serie che vediamo è il momento in cui c'è la pubblicità negli Stati Uniti America che poi viene tolta per l'Europa e rimangono i fondi al nero solo che essendo su Disney Plus non dovrebbe essere c'è la pubblicità un'altra ipotesi ne parlavo con Kalel potrebbe essere effettivamente che siccome c'è l'abbonamento con le pubblicità se tu hai quel tipo di abbonamento le pubblicità vengono messe in quei momenti lì però anche lì c'era bisogno di lasciare gli stacchi al nero anche per chi non ha pubblicità se è quello il motivo non ho capito se è una scelta stilistica o se è una scelta di necessità tra il fatto che io li ho trovati un pochino fastidiosi e manca un filo di collante tra una scena e l'altra questo forse è un po' un problema niente che mi abbia fatto pensare mamma mia che schifo non ho voglia più di guardare questa serie assolutamente no è una cosa su cui passo sopra però l'ho notata e un pochino fastidio mi ha dato non in maniera eccessiva per carità però insomma per il resto gli effetti visivi in alcuni momenti sono ottimi in altri insomma ad esempio c'è la scena che coinvolge la professoressa Dodds in cui non mi ha fatto impazzire la CGI altri invece in cui la CGI è interessante mi è piaciuta poi c'è una cosina che mi è spiaciuta per Grover Grover perché ha detto i romanzi quando è in forma umana diciamo ha le stampelle per mascherare il fatto che è un satiro sostanzialmente qui invece hanno optato per un altro tipo di cosa che mi va anche bene però un pochino mi è spiaciuto perché comunque ci stava quella caratterizzazione lì però va bene nel senso non è un problema poi ho adorato Mr. D Jason Manzucas mi fa impazzire è un attore che amo qualcuno mi ha fatto notare che tanto Mr. D quanto Gabe il patrigno di Percy cioè il compagno della madre sono un po' edulcorati rispetto a come era nei libri ma nei libri siccome erano anche troppo stronzi ed esagerati nel senso che sembravano quasi dei personaggi alle Roald Dahl e cozzavano un po' con quello che poi era il mood dell'intera opera qui li hanno un pochino sistemati e credo che la cosa faccia parte di quegli errori di quelle cose che lo stesso Riordan avrebbe voluto sistemare trasporli esattamente come erano nei libri non avrebbe funzionato così secondo me sono equilibrati e vanno benissimo poi ripeto il mister di Manzucas è fantastico perché Manzucas che è il Detective Pimento di Brooklyn Nine oppure il doppiatore del personaggio DJ in Big Mouth ha fatto un sacco di cose è bravissimo è un grande comico è molto ironico mi è piaciuto ho apprezzato anche il personaggio di Chirone non è male poi tutta la questione del campo mezzosangue che secondo me è stato reso molto bene io avevo paura che venisse fuori una pezzottata secondo me è stato reso meglio qui che nel film devo essere sincero poi magari manca un attimino la solennità per alcune cose che però potrebbe arrivare dopo attenzione nel senso che nei primi due episodi va tutto molto veloce perché presento il personaggio presento un po' un po' l'ambientazione e poi bam subito l'avventura però col fatto che non ti mostrano ancora le divinità col fatto che ancora tante cose non ce le hanno mostrate l'epicità di quello che sta per succedere ancora secondo me è un po' nell'aria però ovviamente tutto questo si può rimediare con gli episodi successivi vedremo che cosa faranno quindi per me è assolutamente consigliata date un'occhiata tra l'altro è bello che esca nel periodo di Natale perché è un tipo di storia che in un periodo festivo sono anche più ben disposto a guardare non so ho sempre voglia di cose un po' fantasy in questo periodo non so se è così anche per voi quindi era proprio il prodotto che ci voleva poi dalle prossime settimane un episodio a settimana hanno iniziato col lancio i due episodi poi sarà un episodio a settimana sono otto in totale quindi ci terrà compagnia ancora per un po' di tempo per tutto gennaio per cui e anche oltre per cui fatemi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi perché adesso farò spoiler per cui se non se non avete ancora vista mi raccomando non continuate con la visione del video perché adesso si entra nel dettaglio quindi avvisati vado allora a me è piaciuto il modo in cui ci hanno presentato Percy ripeto Walker Scobel molto bravo hanno reso bene il fatto che lui abbia qualche problema a leggere perché le lettere si confondono in quanto la sua la sua mente è senza che lui lo sappia settata sull'antico greco sul greco antico la parte al museo è anche bella però come ho detto è un po' veloce l'attacco della furia della professoressa Dodds è un po' troppo rapido anche il fatto che Chirone che è il professore ma lui non sa che Chirone che gli dà la spada è tutto molto rapido molto veloce e poi si arriva a lui che si confronta con la madre la quale per l'appunto gli rivela che lui è figlio di un dio a mezzo sangue lui ovviamente all'inizio non ci crede finché non arriva Grover che si mostra contro quello che è un satiro con la metà inferiore del corpo caprina e qua hanno puntato tutto su una cosa che già c'era nel libro cioè il fatto che c'è una sorta di velo magico diciamo che separa la realtà mitologica dagli umani quindi gli umani non vedono le cose come sono davvero per cui Grover ha la metà inferiore caprina ma le persone non lo vedono stessa cosa Chirone che è in sedia a rotelle ma in realtà è un centauro anche questa cosa comunque è interessante per cui c'è qui il fatto che diciamo che molti si sono chiesti ma come mai la madre di Percy che qui è un po' diversa rispetto ai romanzi è un personaggio molto più tosto molto più combattivo a me è piaciuta tanto la madre come mai una donna sveglia intelligente sta con un uomo come Gabe nei romanzi lo spiegavano qua non credo lo spiegheranno il motivo era che era una persona talmente squallida che i mostri percepivano il suo odore come sgradevole e copriva quello di Percy perché l'idea è che i mezzosangue in quanto figli degli dei attirano i mostri le creature mitologiche cercano di ucciderli perché pensano che siano pericolosi e ne fiutano l'odore quindi stare accanto ad un uomo come Gabe andava a coprire l'odore l'odore di Percy sostanzialmente questa era una cosa molto carina che avevo apprezzato tanto ma che qui poi non avrebbe neanche senso dire perché Percy è in una scuola lontano da casa se non sbaglio questa cosa nel libro non era così quindi non l'hanno spiegato per il semplice fatto che uno può dire sì ma se tanto non vive con loro e poi ripeto Gabe è uno stronzo però non è stronzo come nei libri nei libri è veramente un uomo di merda incredibile non che qua sia meglio però comunque non tanto meglio ma leggermente sì e quindi tutta la prima puntata dove introducono a bomba tutte le novità a tutto il mondo è interessante però magari l'avrei fatta durare un pelino di più e forse mi sarei soffermato su l'approfondimento di alcune cose tipo la cosa della professora Sadhoz tiramela un attimino più in là fammi vedere un po' più di rapporto tra Percy e lei ad esempio un minimo allungami di più la scena no lei arriva si trasforma va da lui e lui le confica subito la spada fammi una scena leggermente più lunga tanto il tempo ce l'avevano secondo me 8 puntate per il primo libro 8 puntate tra i 40 e i 50 minuti dipende dalle puntate secondo il mio modesto punto di vista sono più che sufficienti per raccontarti la storia senza bisogno di fare tutto a mille all'ora però va bene devo dire però che alcuni dialoghi sono identici a come erano nel libro e questa cosa mi è piaciuta molto il rapporto tra Grover e Percy l'ho trovato carino anche Percy come rimane rimane molto triste perché Grover l'ha tradito in realtà Grover facendo le spellere da scuola voleva solo facilitare la sua diciamo il suo percorso perché il suo destino è il campo mezzosangue e anche tutta la parte del minotauro mi è piaciuta cioè verso la fine con la madre che si dissolve lui che comunque uccide il minotauro dimostrando fin da subito un valore che a lui non interessa neanche dimostrare in realtà quindi tutta la prima puntata che si conclude per l'appunto con lui che uccide il minotauro sviene e si risveglia davanti a Chirone che rivela di essere un centauro e che è a campo mezzosangue è stata interessante la seconda ti mostra un po' di più il campo mezzosangue le varie persone spiega che gli dèi hanno spesso figli e non sempre li riconoscono quindi Percy va nella casa di Hermes dove ci sono sia i figli di Hermes che quelli gli altri figli dei dei non riconosciuti e lui è convinto di essere uno di quelli che non verranno mai riconosciuti perché gli dicono tranquillamente guarda alcuni vengono riconosciuti dopo mesi alcuni dopo anni alcuni mai e quindi fa amicizia con Luke tra l'altro molto bello il fatto che lo vediamo bullizzato a scuola Percy quando Luke a campo mezzosangue va lì per presentarsi lui è convinto che sia un altro bull e invece è un bravo ragazzo e lui si stupisce anche se non mancano i bulli anche al campo mezzosangue infatti viene preso di mira dalla figlia di Ares solo che cercano di chiuderlo nei cessi ma lui riesce a allontanare lei e i suoi compari manipolando l'acqua e non capisce come faccia ora io lo sapevo già ovviamente però mi metto nei panni di qualcuno che non ha mai visto non ha mai letto nulla su Percy Jackson il Dei dell'Olimpo e all'improvviso vede questa cosa e pensa oddio lì dovrebbe essere ben chiaro però poi ci sono le diciamo ci sono queste prove no c'è questo questa questa sorta di guerra tra due fazioni nel camping che è una una tradizione e Percy si ritrova nella squadra di Annabeth Annabeth che tra l'altro ha subito un certo interesse per lui non romantico ma in quanto persona che non riesce a decifrare completamente e lo usa come esca per creare un diversivo e distrarre i più forti del camp che sono per l'appunto i figli di i figli di Ares che tra l'altro sarà è interpretato da Adam Copeland che è meglio conosciuto con il nome di Edge nel wrestling contentissimo di sapere che sarà in questa serie in queste prime due puntate ovviamente non lo vediamo ancora in queste prime due puntate non mostrano le divinità non vediamo le divinità sappiamo però che ci sarà un'interpretazione l'ultima probabilmente di Lance Reddick nei panni di Zeus però ancora non si è visto quindi i figli di Ares vengono distratti da Percy la fazione di lui Annabeth vince e Annabeth poi lo butta in acqua e lui dice ma che cazzo stai facendo ma vediamo subito che in realtà l'era fatto perché aveva un sospetto le ferite di Percy non appena entra in acqua si curano e subito dopo compare un tridente luminoso sopra la sua testa perché è suo padre che l'ha riconosciuto e questo è il presupposto più interessante di Percy Jackson come opera perché l'idea è che molto tempo prima i tre figli di Titano hanno stipulato un patto nessuno di loro avrebbe più avuto figli illegittimi illegittimi non bisognava più procreare perché i loro figli sarebbero stati troppo forti è un po' questo il senso quindi è interessante perché da lì Chirone e Mr. D gli spiegano che è stata rubata la folgore di Zeus e che Zeus ospetta di Percy Jackson perché guarda caso di lì a poco si è manifestato un figlio di Posidone che non sarebbe dovuto esistere e quindi c'è quest'ultimatum pochi giorni per ritrovare la folgore altrimenti si scatenerà la guerra e sarà la fine per l'umanità quindi è qui che dicevo che manca un finino alla solennità è una cosa grossa ma secondo me in queste prime due puntate non si capisce ancora la gravità del tutto avessero mostrato gli dei o quant'altro avremmo visto che esistono avremmo visto chi sono li avremmo visti magari litigare così invece secondo me è un po' buttata lì ma credo che poi più avanti io poi ho visto già il terzo e quarto episodio non posso dire nulla ripeto però secondo me è un problema di entità minore questo e tra l'altro Mr. D sarebbe Dioniso e è bellissimo perché Percy non sa chi sia suo padre quando incontra Mr. D lui dice sono io tuo padre ora devi andare a prendermi una cassa di birre e arriva Chironi che dice ma no non è tuo padre è solo che lui non può Zeus gli ha imposto di non bere alcolici quindi lui non può lui vuole cercare di ingannarlo perché lui non può bere alcolici cioè non può andare a cercare alcolici ma se glieli portano è un altro discorso Mr. D a me piace un sacco è perfettamente quello che mi aspetterei da Dioniso onestamente quindi o Dioniso comunque va benissimo così e quindi insomma è tutto molto molto interessante in realtà è tutto molto carino a me è piaciuto quello che ho visto in queste prime due puntate tra l'altro a un certo punto ci sono perse sua madre che si fanno davanti a un negozio in cui che si chiama Di Angelo chi ha letto i libri sa che quello è un easter egg adesso non dico niente perché tanto è una cosa che succede molto più in là per cui nella serie a meno che non cambiano le cose vogliono introdurre certe cose prima non la vedremo per parecchio però se seguono i libri però è un riferimento che mi ha fatto sorridere mi ha fatto molto sorridere anzi quindi sono due puntate molto introduttive perché poi il grosso arriverà dopo è l'impresa vera e propria quella che vedremo quella che insomma perché poi la seconda puntata finisce con Grover che conferma un sospetto che aveva avuto perché a un certo punto lo vediamo nel secondo episodio parlare con Chirone e con Mr. D del fatto che lui ha visto la madre di Percy dissolversi in una nebbia dorata perché lei ha chiesto aiuto agli dei ed è stata presa da Ade prima che effettivamente morisse fisicamente quindi inizialmente Percy non vuole andare nell'Ade perché la missione è andare nell'Ade e recuperare la folgore perché si sospetta che la folgore sia lì ma in realtà in realtà Percy non vuole decide di andare perché Grover gli dice che sua madre potrebbe essere ancora viva ma prigioniera nell'Ade e allora dice allora andiamo e devono andare a Los Angeles poi io so come hanno reso anche l'ingresso dell'Ade eccetera e non penso l'abbiano cambiato nella serie perché era geniale secondo me non ve lo dico perché ovviamente se non avete letto il libro è bello avere la sorpresa però secondo me anche tutta questa cosa può essere interessante tra l'altro io non vedo l'ora onestamente di di vedere come si evolverà il tutto cioè io poi ancora per qualche settimana a mano devo stare tranquillo perché ho visto i primi quattro episodi per cui per altre due settimane non so come andrà avanti la faccia anzi tre perché comunque settimana prossima ci sarà la terza poi ancora dopo la quarta ecco tra tre settimane anche io vedrò come va avanti però per l'appunto quello che mi colpisce maggiormente è la chimica che sembrano avere loro tre anche se ancora cioè non li abbiamo ancora visti tutti e tre insieme come squadra perché ovviamente hanno interagito di più Percy e Grover e poi Percy e Annabeth Grover con Annabeth non ha interagito praticamente quindi ancora dobbiamo vedere come sono tutti e tre assieme ma per ora loro funzionano in generale funzionano ma un po' tutti i personaggi anche la figlia di Alice stronza secondo me funziona come ho detto ripeto alcune cose sono un po' buttate lì le scene sono belle ma sembrano una serie di clip montate una in fila all'altra ci avrei messo quel collante in più la regia nella prima puntata è carina nella seconda ha dei momenti alti e dei momenti non proprio altissimi però nel complesso non mi sento di dire che non funzioni non è una regia pessima o che non mi è piaciuta è una regia che comunque tutto sommato fa il suo è una regia anche interessante sotto molti punti di vista ad esempio a me la parte in cui viene rivelato il potere di Persi il rivelato scusate di chi è figlio Persi non è dispiaciuto a livello registico con lui che cade in acqua Annabeth che sorride perché capisce che aveva ragione e poi l'inquadratura che si allarga con il tridente tipo il tridente poteva essere fatto un filino meglio magari sì per l'amor del cielo però non lo so a me piaceva anche a me è sempre piaciuto il fatto che Persi Jackson sia un'opera che un po' si mette in contraposizione con Harry Potter nel senso che è di quel filone lì il protagonista ragazzino super super salvatore di tutti prescelto di qualcosa insomma è interessante come idea però era bello che anziché mettere un logo tipo il castello di Hogwarts tutto solenne fai un camping è un'idea bizzarra il camping ma perché proprio un campeggio con le case dove dormono insieme in ciascuna tutti i figli dello stesso dio è comunque affascinante come idea se ci pensate quindi e se è di quel filone lì poi non ha mai avuto il successo di Harry Potter però di successo ne ha avuto altrimenti non avrebbero provato prima a farci un film e poi una serie è sicuramente un'opera che ha lasciato un segno non quanto Harry Potter ma lì penso che sia una cosa quasi impossibile da replicare però è la cosa più vicina a Harry Potter come fandom anche che io abbia mai visto quando lessi libri io ero un po' ero già no non ero ancora forse forse io i libri li ho letti che avevo era sicuramente dopo i 18 anni però perché mi sa che facevo già l'università forse avevo 19 20 vabbè non lo so comunque ero già orfano di Harry Potter come tanti e forse era appena finito Harry Potter quindi stavo cercando inutilmente in vano qualcosa non dico che sostituisse Harry Potter ma che mi desse anche solo la pallida imitazione delle sensazioni che mi aveva dato leggere quella saga nel tempo leggendo Percy Jackson e gli idee dell'Olimpo devo ammettere che in parte quella sensazione l'ho provata in piccolo ovviamente perché comunque non si possono paragonare i due franchise però comunque questa serie dimostra che Percy Jackson è sicuramente un brand un franchise che può avere una sua un suo grande seguito e io vedo che tanti stanno parlando anche piuttosto bene della serie ne sto sentendo parlare abbastanza sto leggendo parecchio fermento in giro quindi io sono contentissimo del fatto che abbiano deciso di fare una serie e che stia venendo così bene nel senso che a me non sembra un cattivo inizio bisogna poi arrivare alla fine e capire però tra le cose originali di Disney Plus degli ultimi anni una di quelle che promettono meglio so che era in cantiere l'idea di fare anche una serie su Aragorn che però poi non si è più saputo niente di questo poi ripeto le prime due puntate sono molto introduttive è tutta un'introduzione per cui succedono anche un po' di cose per l'amor del cielo è bello vedere mi è piaciuto vedere come hanno adattato Chirone come hanno adattato i satiri i fauni vedere Dioniso che è lì per addestrare i giovani figli degli dèi mezzo sangue come si mimetizza il minotauro la cosa delle furie è carino però più avanti arriveranno le cose più interessanti io poi sono sempre stato molto appassionato di mitologia greca per cui la prima volta che lessi i libri mi è impazzito perché dici cazzo è geniale io adoro le opere in cui si attualizzano i miti e le leggende tipo ad esempio Sandman io le adoro anche per quel motivo lì perché si parla tanto di quello American Gods anche quindi a me fa sempre piacere quando ci sono cose di questo tipo per cui vi consiglio caldamente di guardare i primi due episodi anche la colonna sonora non è male per quello che si è sentito finora e credo che sono un buon biglietto la visita due puntate non troppo lunghe che ti introducono tutto che ti fanno capire che da lì in poi inizia la grande avventura per cui io sono abbastanza convinto che le puntate successive ci ci riserveranno non poche sorprese quindi tenete d'occhio questa serie guardate la settimana dopo settimana perché secondo me può solo migliorare quindi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di quello che ho appena detto vi sono piaciuti questi primi due episodi non vi sono piaciuti insomma fatemi sapere soprattutto qual è stata la scena che avete preferito io tra l'altro ho adorato il discorso tra Persi e la madre con Persi che gli vuole gli vuole dire che lui è un semidio ma lui dice smettila di proteggermi io lo so che ho problemi di testa perché tra l'altro è anche interessante il fatto che lui si è convinto di essere schizofrenico perché lui vedeva delle cose che però gli altri non vedevano ma non era schizofrenico semplicemente essendo un semidio iniziava a cadere il velo che impedisce agli umani di vedere le cose per quello che sono quindi lui magari vedeva una creatura sbatteva le palpe ed era diventato subito un camioncino perché? perché le persone la vedevano in quel modo lì lui no perché era ancora un bambino quindi stava sviluppando pian piano i poteri del semidio quindi ogni tanto aveva degli sprazzi in cui vedeva le cose arrivato a un'età un po' più grande in cui era un po' più grandicello ha iniziato a vedere le cose per quello che sono e basta anche se non proprio tutto tutto perché ad esempio Chiron e Grover rimanevano mascherati quindi anche da quel punto di vista è interessante la cosa per cui a me piace il fatto che lui faccia fatica all'inizio a credere di essere speciale di essere un semidio e che creda piuttosto di essere schizofrenico non mi è dispiaciuto perché poi è un personaggio abbastanza lui poi tra l'altro è molto umile non è uno stronzone non arriva lì anche quando quando scopre che è il figlio di Poseidone non è che fa il figo anzi lui non vorrebbe essere figlio di Poseidone lui ce l'ha con Poseidone perché dice mio padre non ha salvato mia madre non mi ha riconosciuto fino a poco fa adesso che gli servo arriva è troppo comodo e il motivo per cui accetta è solo perché così può cercare di salvare la madre anche se ti fanno capire tanto misteri quanto Chirone che non è quello che dovrebbe fare cioè può essere pericoloso quindi fatemi sapere cosa ne pensate perché secondo me è iniziata veramente bene io vi abbraccio vi ringrazio grazie per aver seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo VoiBlog ciao a tutti